Giacomo Campora, direttore generale e presto amministratore delegato di Allianz Italia. Oggi all'Insonance Day si è parlato dell'evoluzione del sistema assicurativo, della personalizzazione delle polizze. Lei ha riportato l'attenzione al tema centrale della competenza. Questo rimane centrale per il settore e in particolare anche per Allianz. Io credo che in tutte le evoluzioni che la nostra generazione sta vivendo, quindi un fortissimo cambiamento da un mondo che era fatto di contatti personali, ma adesso stiamo andando invece sempre di più verso un mix di contatti personali e digitali, come per esempio questo, sia molto rilevante investire non solo sulle capacità comunicative, l'intelligenza emozionale, questo era un po' il messaggio che volevo dare, ma soprattutto sulla capacità di trasformare la competenza in qualche cosa di comunicabile. Però nel nostro mondo, quello dell'assicurazione, in generale quello dei servizi finanziari, ma l'assicurazione in particolare, dove si tratta il rischio, cioè l'assicuratore toglie rischio al suo cliente in cambio di un premio che è sempre basso relativamente al rischio che copre, la competenza tecnica è fondamentale, perché per l'esempio di tutti noi capiamo, se io spendo dai 300 ai 600 euro all'anno per assicurare la mia responsabilità civile alla guida e Dio non voglia, invece sono coinvolto in un incidente, magari per distrazione perché sto guardando il cellulare e colpisco un'altra vettura causando dei danni alla stessa di migliaia di euro, perché ormai le vetture sono molto sofisticate, io naturalmente come assicuratore a fronte di un premio appunto che dicevo per i 300 ai 600 euro mi trovo a pagare un sinistro magari di migliaia di euro, 5.000, 10.000, 20.000 euro, dipende con quale vettura io ho al sinistro. In questo caso se non ho una capacità tecnica di apprezzare il rischio ex-sante di selezionarlo, non duro molto, l'impresa non rimane nel business, a danno di tutti gli altri clienti che si sono assicurati, quindi è un dovere, a mio modo di vedere, nostro e nel nostro settore essere tecnicamente molto molto competenti. Poi possiamo essere bravissimi nel marketing, possiamo essere bravi a comunicare, possiamo essere particolarmente vicini al nostro cliente. Questa è una caratteristica necessaria per quasi tutti i business oggi. Per l'assicurazione, on top, come si dice in inglese, al di sopra di tutto questo, è necessario essere straordinari dal punto di vista tecnico. E devo dire che Allianz, grazie alla sua area tecnica a Trieste, a Genial Lloyd, a tante altre sforzi che facciamo anche a livello di gruppo, ha nella eccellenza tecnica uno dei pilastri fondamentali. Chiaramente anche il cliente è importante, ma questo oggi non ho voluto stressarlo, perché è la normalità della strategia di Allianz. La particolarità della strategia di Allianz è quella che l'eccellenza tecnica per noi è fondamentale.